Buonasera cari amici, bentrovati in Metropolis del lunedì, come sempre due temi alla nostra attenzione. Parleremo all'inizio delle questioni che riguardano il condominio, dunque una platea enorme di persone e poi parleremo invece di pensioni. Partiamo con le questioni condominiali con Fabrizio Visca, amministratore di condominio e ormai un nostro amico che ci viene a trovare praticamente tutti i lunedì. Buonasera a tutti. Buonasera Visca, dunque io come sempre vi invito chi vuole ovviamente telefonare per porre quesiti, domande oppure chi ha dei dubbi per cercare naturalmente di risolvere questi dubbi. Numero di telefono lo state vedendo 024807 3451, dunque il tema è quello relative alle questioni condominiali e tutto quello che c'è collegato. Come sempre iniziamo la nostra chiacchierata con Visca, è un tema che questa sera ha scelto lui, la cosiddetta altezza di piano, molti si chiederanno ma che cosa diavolo è questa altezza di piano e allora glielo chiediamo a lui di cosa si tratta. Allora l'ho scelta apposta perché messa così pochi la conoscono, però in realtà ne parlano tantissimo senza magari accorgersene in un certo senso. L'altezza di piano, come dice la parola stessa, è l'altezza in condominio, il condominio pensiamo a quello che si sviluppa in verticale, per cui piano terra, primo piano, secondo piano eccetera eccetera. L'altezza di piano è un coefficiente, chiamiamolo così, che viene utilizzato per fare quelle che sono le tabelle scale o tabelle ascensore, quelle che noi condominio, chi abita in condominio, trovano già legate anche al roggito di acquisto o comunque insieme anche alle altre tabelle che sono la tabella di proprietà generale. Di solito uno si trova la tabella ascensore e dice, beh, com'è costruita questa tabella ascensore, la tabella ascensore viene utilizzata, anzi viene costruita per poi essere utilizzata nel ripartire le spese relativa alla manutenzione e alla tenuta anche, manutenzione dell'ascensore e tenuta in manutenzione anche delle scale, quindi la famosa pulizia delle scale, tramite questa tabella che è costruita per il 50% utilizzando i millesimi di proprietà generale, che è il millesimo di proprietà e l'altro 50% è fatto dall'altezza di piano, cioè viene utilizzato quello che è primo piano, secondo piano, terzo piano, quindi due appartamenti che uno si trova al piano 1 e l'altro si trova al piano sesto e hanno gli stessi millesimi di proprietà, con l'altezza di piano avranno un differente millesimo ascensore o scale, perché l'altezza andrà ad influire maggiormente sull'appartamento che sta al sesto piano rispetto a quello che è al primo piano. Quindi chi è in appartamento in alto paga di più di chi è in appartamento in alto. In questo modo chi paga il 50% della spesa di manutenzione e pulizia delle scale dell'ascensore viene pagato di più dall'appartamento che sta ai piani più alti. Quindi per capirci c'è un 50% che è un po' comune a tutti, sono i soliti millesimi che riguardano tutti i condomi. L'altra metà invece varia appunto in funzione dell'altezza, cioè del piano nel quale uno abita. C'è anche un perché logico, se vogliamo, nel senso che perché uno dice sì vabbè però io abito al sesto, molti dicono, molti condomini ragionano, io prendo un po' la casistica generale, io abito al sesto piano però l'ascensore non lo uso mai. Sì, però allora è vero ma in condominio esiste quello che è la presunzione di potenzialità dell'uso di un bene o di un servizio comune, cioè io potenzialmente posso utilizzare l'ascensore che poi sia una mia scelta personale e consapevole di non utilizzarlo, non vuol dire che non devo pagare la manutenzione di questo servizio condominiale. Ecco perché chi sta al sesto piano ovviamente ha cinque piani da fare rispetto a uno che sta al primo piano che ne ha uno solo, deve pagare di più rispetto a tutti quelli che stanno sotto. Ecco, tu spesso ci parli del regolamento condominiale che indica i binari entro i quali bisogna stare. In questo caso, questo 50% appartiene un po' a una disposizione generale e ci possono essere variazioni da condominio a condominio? No, allora non ci possono essere variazioni in questo specifico caso perché la norma deriva da una legge nazionale, c'è proprio un articolo del Codice Civile che specifica che gli ascensori e le scale, tra l'altro, apro una parentesi perché è stato con la riforma del 2012, le scale e gli ascensori sono stati uniformati in questo senso, la manutenzione delle scale e degli ascensori devono essere manfatte, quindi devono essere calcolate, devono essere ridistribuite tra i condomini in metà in funzione dei millesimi di proprietà e metà in funzione dell'altezza di piano, lo specifica proprio la norma. No, non si scappa, è proprio una situazione... Deve essere così per forza. Per forza in questo modo, poi naturalmente ci sono le situazioni più disparate, non so, i condomini che magari non vanno in altezza, vanno... Poi ci sono i concerti, esatto, quelli che sono i famosi condomini orizzontali anziché verticali, quello è un altro discorso, lì non ci sarà la presenza di scale, non ci sarà la presenza di ascensori, ci saranno altre particolarità, però in questo senso, in questo caso, in un condominio verticale, la manutenzione delle scale e degli ascensori per la legge italiana deve essere fatta in funzione dell'altezza di piano e dei millesimi di proprietà. Ecco, abbiamo capito questa cosa, altezza di piano, che a molti, anche a me, per primo poteva apparire come qualcosa di incomprensibile. Tra gli altri punti che abbiamo messo nella nostra trasmissione di oggi, poi ovviamente chi vuole intervenire lo può fare su qualunque problematica condominiale, però volevamo parlare anche del verde. Il verde che in parte può essere privato e in parte può essere condominiale, cioè un verde a disposizione di tutti e queste sono situazioni che a volte danno grosse discussioni, perché magari ci sono i cani o i bambini che invadono un terreno piuttosto che un altro e quindi naturalmente si creano dei problemi. Però dovrebbe già esserci una telefonata, magari ne affrontiamo subito dopo. Pronto, buonasera. Pronto? Pronto, sentiamo se c'è qualcuno, se no... Pronto? Sì, prego, in linea, può fare la sua domanda. Eh sì, solo che io sento basso il telefono, il televisore non ho abbassato, ma sento basso il telefono. Ma noi la sentiamo bene, guardi, se... No, io provo a parlare, poi se riesco a capire. Prego. Se no, a limite io faccio una cosa, parlo poi li ascolto con la tele, vediamo. La sentiamo bene. Allora, senta, io voglio chiedere un po' un parere qui al rispetto delle condomini, amministrazioni, eccetera, se lui mi sa dire, perché noi qua abbiamo un problema da diversi anni di frontalini. Siamo quattro scale e sei piani qua, è grosso il coso qua. Abbiamo alcuni anni di frontalini che si sono un po' scarrati così, ma abbiamo dovuto un po' raschiare perché qualche tempo veniva giù, no, proprio tutto, però qualcuncino veniva giù. E insomma che adesso il dubbio è questo. Noi siamo obbligati perché qua, diversi anni fa, quando hanno fatto queste case, il comune, eccetera, non si usava a mettere sui balconi, non si usava a mettere la, come si chiama, l'isolante, eccetera. Si parla di molti anni fa, di 40, 50 anni fa. Ecco, non si usava a fare questo procedimento. Allora adesso noi siamo obbligati perché a partire i doppiazioni sono in tutto in l'interno, non si usava qualche balcone, ma siamo obbligati a mettere a lontare queste cose, i piastrelle e mettere questa fascia, questa cosa isolante. Oppure possiamo lasciare stare, come ha detto qualcuno, anche l'amministratore dice che alcuni balcone si possono lasciare stare, lasciare stare e fare solo i frontalini, perché qui la spesa poi inciderà molto. Io lascerei la parola a voi e chiudere il telefono. La ringrazio, adesso rispondiamo. Allora, problemi a frontalini. Frontalini, stiamo parlando dei balconi e in questo caso stiamo parlando di balconi aggettanti, i famosi balconi aperti su tre lati, quelli che vediamo tutti nei maggior condominio. Quelli che sporgono. Quelli che sporgono sono aperti su tre lati con le famose ringhiere, quelle che siamo abituati a vedere. Allora, il frontalino e intanto, frontalino e pavimentazione sono due parti del balcone differenti e vengono trattate anche in maniera differente dalla giurisprudenza, perché è il frontalino, che è la parte, diciamo, quella bianca della soletta. Il perimetro. Esatto, quello che è proprio il pavimento, il classico frontalino. Il frontalino viene considerato parte comune perché si inserisce all'interno del decoro architettonico, quindi fa parte della facciata condominiale. Mentre per quanto riguarda, il signore parlava del pavimento e quindi dell'impermeabilizzazione che ci sta sotto le piastrelle che ricoprono la pavimentazione del balcone, quella è una parte invece privata. Quindi sono due aspetti, sono due parti tecniche dello stesso balcone che però vengono trattate in maniera diversa. Per i frontalini sono obbligati perché il condominio, qualora dovesse cadere un pezzo di intonaco piuttosto che della parte del frontalino, la responsabilità ricade sul condominio intero perché, come abbiamo detto prima, fa parte della facciata condominiare. Quindi la manutenzione... La manutenzione spetta il condominio. Ovviamente il condominio lo farà per tutti, non solo per uno, però per tutti i balconi ammalorati. Invece per quanto riguarda la parte di impermeabilizzazione, quindi la famosa guaina impermeabilizzante che c'è in tutti i pavimenti dei balconi, che però ripeto sono parti private, sono di competenza di chi utilizza quel balcone. In questo caso suggerire di lasciare così com'è è azzardato perché ovviamente tutti i danni che un'eventuale infiltrazione di acqua proveniente dal balcone a causa della mancata impermeabilizzazione del pavimento dovessero arrecare è di responsabilità del proprietario. Il signore però parlava dei frontalini dicendo che la spesa è notevole, siamo costretti a fare il lavoro o meno. Lì la decisione se il lavoro va fatto o meno... In quel caso sui frontalini essendo parte comune lo decide la maggioranza dei condomini. Invece per quanto riguarda le parti private ognuno può scegliere per sé perché è una parte privata, però deve sapere che qualora dovesse arrecare danno a terzi o al condominio la responsabilità di risarcire i danni eventualmente arrecati è del singolo. Quindi può essere un costo notevole a carico di tutti, però c'è da tenere conto anche che se poi succede qualcosa c'è la responsabilità su quanto è successo, quindi lì bisogna mettere sui piatti della bilancia e vedere se conviene scegliere un'opzione piuttosto che l'altra. Esattamente, esatto. Va bene, speriamo di aver risposto, grazie per la sua chiamata, ne prendiamo un'altra. Pronto o buonasera? Pronto? Pronto? Pronto. Sì, buonasera, è in linea, può fare la sua domanda. Può collegarsi in diretta con la trasmissione? Lei è già collegato e c'è il nostro esperto che le può rispondere. Va bene, resto in attesa allora. No, prego, può fare la domanda. Ah, ok, scusi. Siccome sto vedendo proprio la trasmissione, parlavano del frontalino e poi della parte superiore del pavimento del balcone. Io ho una casa che succede la stessa cosa, però il proprietario che utilizza quel pavimento da 40 anni non utilizza la casa, praticamente la casa è abbandonata. Siccome è venuto giù tutto l'intonaco, si vedono i ferri dalla parte sotto del balcone, io ho paura che questo balcone possa andare giù. Cosa devo fare materialmente? Perché l'amministratore è come se non sa cosa fare, perché questo non si ritrova, non si è in traccia. Cosa devo fare? Allora, per rispondere a questa domanda le vie... Le rispondiamo, grazie della telefonata. Sicuramente la responsabilità resta comunque e sempre di chi è proprietario dell'appartamento. Quindi anche se uno non ci va mai... Anche se è sfitto, non ci va mai, comunque c'è qualcuno che è proprietario di questo appartamento. Come si fa a risalire a chi è il proprietario di questo appartamento? Ovviamente l'amministrazione ha due modi. Uno è la tenuta del registro di anagrafe condominiale che è stata introdotta dalla riforma condominiale. Lì bisogna sapere insomma chi è... Bisogna sapere di chi è, è certo, chi è il proprietario. Qualora il proprietario non si facesse vivo, non dà i propri dati, i propri recapiti e quant'altro, l'amministratore è autorizzato a fare tutte quelle che sono, tramite professionisti o lui personalmente, a fare tutte quelle che sono le indagini catastali piuttosto che altre indagini al fine di risalire chi è il proprietario dell'appartamento. A quel punto, una volta conosciuto il nominativo, si deve intervenire affinché l'appartamento privato non rechi pregiudizio o danno ad altre parti. Ammettiamo che, immagino, non so, che questa persona proprietaria magari vive all'estero, lontano e ha tenuto questa casa chiusa. Ma comunque deve provvedere, accade un qualche cosa. Assolutamente, se ne rimane sempre responsabile finché ne è proprietario, per risalire all'identità ripeto, o si possono fare delle indagini a livello catastale o in questo caso potrebbero tornare utili anche delle indagini a livello fiscale, perché comunque anche a livello fiscale chi è proprietario ha delle scadenze. Quindi il signore che magari abita sotto o sopra questa situazione deve chiedere l'intervento dell'amministratore. Insieme all'amministratore riuscire a risalire al proprietario e poi, dipende, se questo appartamento crea un pregiudizio, un danno temuto ad una parte comune, sarà il condominio tramite l'amministratore intervenire al fine di tutelare questo danno temuto. Se invece è solamente lui che ha un pregiudizio, ha una paura, sarà lui che privatamente con il proprietario sovrastante dovrà intervenire e mettere in atto le opportune azioni e opere al fine di tutelarsi da eventuali danni. Ecco, speriamo di aver chiarito questa situazione che a volte può essere anche molto difficile quando appunto gli appartamenti non sono abitati da persone che abitano lontano. Tra poco altre telefonate, ci fermiamo alcuni istanti, c'è la pubblicità. Eccoci qui, seconda parte di Metropolis, stiamo parlando con Fabrizio Visca, amministratore di condominio, sui temi naturalmente che riguardano i nostri e la nostra vita nei condomini. Dovremmo avere un'altra chiamata in linea. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Mi sentite? La sentiamo bene. Prego, faccia la sua domanda. Senta, io avevo una domanda relativa alle spese nel caso di acquisto di un appartamento. Diciamo, quelle che sarebbero le spese arretrate del condomino nel momento in cui vado a stipulare un contratto di compravendita e nel caso le spese che sono già state deliberate dall'Assemblea. Spese di natura straordinaria. Se sono appunto da imputare al proprietario dell'appartamento, quindi ante compravendita, o se poi in qualche modo l'acquirente ne entra in mezzo e quindi deve sostenere poi successivamente la spesa. Va bene, rispondiamo grazie della chiamata. Allora, in questo caso c'è da fare... Spese condominiali. Esatto, tra chi compra e tra chi vende. La differenza, lo spartiacque lo fa la tipologia della spesa. Nel senso che... L'amministrazione comune, diciamo così. Bisogna vedere se è una spesa che rientra nella manutenzione ordinaria, quale può essere l'assicurazione, l'amministrazione e quant'altro, oppure si tratta di una spesa straordinaria. E in questo senso cambia perché in un caso spetta a chi ha venduto sostenere comunque la spesa, nell'altro caso spetta invece a chi ha comprato, quindi chi subentra dopo. Qual è la particolarità? Di solito noi vediamo nei bilanci condominiali che c'è sempre la quota di subentro, perché nelle spese ordinarie, nei contenuti nei bilanci, quindi l'amministrazione, la banca, piuttosto che l'illuminazione delle parti comuni, viene suddivisa tra chi ha venduto e tra chi ha comprato, in base ai giorni di possesso. Questo perché? Perché le spese ordinarie vengono suddivise tra chi era a condomino nel momento in cui queste spese si verificano. Nelle spese invece straordinarie, quando viene deliberata una spesa straordinaria, quale può essere il rifacimento del tetto, piuttosto che il rifacimento di una faccia... Che però magari avviene in tempi... Che magari avviene tra un mese o dopo due mesi dalla delibera, chi ne sostiene le spese deve essere chi era a condomino al momento in cui è stata deliberata. Quindi, ipotizziamo che io sono condomino oggi, che siamo al 15 di ottobre, deliberiamo questa sera in assemblea di rifare il tetto, 20 mila euro, ipotesi. Anche se poi i lavori verranno fatti davanti. I lavori inizieranno il primo di novembre, io vendo al 31 di ottobre, dovrei sostenere io comunque la spesa perché è stata deliberata quando io ero condomino. A meno che, con chi mi comprerà l'appartamento, abbiamo un accordo in cui io magari faccio uno sconto sul prezzo perché le spese di rifacimento... Vanno a carico suo. ...le sosterrà chi comprerà. Ok. Mentre dicevi invece per le spese ordinarie... Invece per le spese ordinarie, vengono suddivise in funzione di quando, non di quando vengono deliberate, ma di quando si è condomini. Tanto è vero che, ad esempio, nel corso dell'anno, quando subentra un altro nuovo condomino, la spesa di amministrazione e tutte le altre spese ordinarie, di solito vengono suddivise in base ai giorni di possesso. Per cui, se l'esercizio inizia il primo di gennaio, io vendo l'appartamento il 30 di giugno, dal primo gennaio al 30 giugno spettano a me e dal primo di luglio al 31 di dicembre spetteranno a chi è subentrato come nuovo acquirente. E queste sono, diciamo, regole generali? Queste sono le regole generali che funzionano di solito. Tutto questo può essere comunque modificato in funzione di quelli che sono gli accordi tra venditore e compratore. Un accordo personale che dica... Che ovviamente andrà comunicato all'amministratore in modo che sappia come puoi andare regolarmente su dividere. Se non ci sono accordi differenti, di solito la regola è questa. Mentre quando uno vende, poniamo uno che vende oggi, eventuali spese straordinarie da domani ricadono su chi ha acquistato. Le spese straordinarie sì, le spese straordinarie no, è sempre a carico di chi ha condomino nel momento in cui vengono deliberate dall'assemblea. Ah, il momento della deliberazione? Della delibera, è quella che fa fede, per le spese straordinarie. Straordinarie intendiamo appunto quelle che non avvengono regolarmente. Decidiamo di rifare il tetto. Lavori particolari, insomma. Certo, esatto, perché di solito... Allora, straordinario, di solito si considerano spese straordinarie quelle che avvengono, diciamo una tantum, ma il termine è un po' errato, nel senso che il rifacimento del tetto è sempre una manutenzione ordinaria, ma non avviene regolarmente ogni mese o ogni anno. Avviene. Ecco, queste spese straordinarie, anche di notevole entità economica, che vengono deliberate con una certa maggioranza, sono a carico di chi era condomino nel momento in cui la maggioranza dell'assemblea lo va a deliberare. Non è così per le spese, invece, ordinarie. Le ordinarie sono le classiche, la corrente elettrica delle parti comuni... Il riscaldamento, se... Ecco, anche il riscaldamento, che il riscaldamento però essendo a consumo va in base alla lettura del contabilizzatore, per cui uno paga fino a quando c'era e poi pagherà... Subentra l'altro. Esatto. Poi di solito quando si vende tra aprile e ottobre siamo a cavallo di due esercizi termici, per cui uno pagherà l'esercizio precedente e l'altro inizierà a pagare quello nuovo. Certo. Poi si va anche con il buon senso in questo caso. Eh beh, poi c'è un buon senso. Però la particolarità è, perché se la chiesta sicuramente la difficoltà è è stato deciso di rifare la terrazza, piuttosto che di rifare un tetto, o di rifare i frontalini dei balconi... Beh, se è stato deciso, mentre io ero proprietario... Lo devo fare, lo devo sostenere io. Lo devo fare io. A meno che, ripeto, con chi compra ci mettiamo d'accordo e dire, guarda, c'è una spesa straordinaria deliberata, la sostengo io, perché poi qui si va anche a livello fiscale, nell'ambito fiscale, perché se c'è una spesa inizia c'è la detrazione fiscale, quindi a chi compete, a chi spetta, ecco, l'accordo è sempre la miglior cosa per sciogliere ogni dubbio. Certo. Magari, Nati, dovrebbe esserci un'altra telefonata, allora la prendiamo. Pronto? Buonasera. Pronto? Vediamo se ci sente. Pronto? Se c'è qualcuno in linea. No, forse è caduta la telefonata, quindi possiamo riprendere anche il nostro discorso relativo al verde privato e verde condominiale, altro argomento che spesso desta, liti e quant'altro. Sì, perché, allora, noi siamo, è una cosa molto recente, noi siamo abituati a pensare ai condomini come queste palazzine che si sviluppano in verticale con intorno il classico verde condominiale, il classico giardino condominiale, che è un giardino, un verde, uno spazio, un'area verde, che è di tutti i condomini, procuota in base ai loro millesimi. Oggi però, più che oggi, anche negli ultimi anni, si tende a costruire condomini con gli appartamenti al piano terra corredati con i propri giardini di proprietà. E sono giardini di proprietà privata quelli che non rientrano nel verde condominiale, per cui la manutenzione e quant'altro è tutto a carico di chi comprerà l'appartamento che ha appunto questo giardino privato. Di solito i regolamenti condominali di questa tipologia di condominio prevedono, sì, dei vincoli del tipo, l'altezza della siepe, perché la siepe dei giardini privati, ricordiamoci, è una siepe privata, non è una siepe condominiale. Quindi ognuno deve continuare. Ognuno deve mantenersela, e però il regolamento può dire che deve essere alta, massimo 1,80 m, piuttosto che 2 metri, non deve andare, deve essere manutenuta, tagliata, in modo che non sporga sulle parti comuni, eccetera, eccetera. Ecco, qui sorge un po' di problema, perché naturalmente chi sta ai piani alti, che non ha il giardino, chiama l'amministratore e giustamente gli dice, ma quello non fa, non tiene bene la siepe, insomma è brutto a vedersi, perché non è tagliata, perché non è... L'estetica lascia desiderata. Esteticamente non è... Ecco, su questo, se il regolamento non dice nulla, l'amministratore ha poco potere, perché è una siepe privata, non si può attaccare al decoro architettonico, perché non siamo in ambito di decoro architettonico. Bisogna solo sperare che quella persona si dia da fare. Ecco, sì, al massimo l'amministratore il più delle volte, per accontentare chi si lamenta, dice sì, ok, farò un richiamo a chi è il proprietario dell'appartamento, in modo che lo invito a tenere la siepe. Però non si può andare oltre. Però più di quello non si può fare. Sentiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Pronto? Sentiamo se c'è in linea qualcuno. Pronto? No, forse aspettiamo ancora, se arriva l'ultima telefonata, siamo quasi in chiusura. Volevo toccare anche l'argomento degli animali in condominio. Altra questione che a volte non è facile da risolvere. Ci sono gli amanti degli animali, quelli che si vedono. Ah, pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Allora mi interrompo. Prego, è in linea, può fare la sua domanda. Senta, non so se sono in argomento. Comunque c'è... Prego, prego. Senta. Io sono in un condominio che ha un giardino privato del condominio. Sì. Sì, la stiamo ascoltando. Prego, vado. Sì, quindi c'è una persona, c'è una persona, c'è una persona che è un affittuario. Sì. Che è un affittuario e questo, questo si praticamente porta il suo cane, il suo cane a fare i suoi bisogni. Sì. A fare... In questo giardino condominiale. Cosa deve fare l'amministratore per evitare che questo succeda? Grazie, grazie della sua telefonata, ne rispondiamo. Allora, così ci allacciamo anche i due argomenti, animali e giardini. Allora, l'amministratore quello che può fare, trattandosi di una parte comune condominiale, che non è ovviamente, non ha una destinazione d'uso per i bisogni degli animali, dovrebbe chiamare o comunque interfacciarsi con il proprietario e ricordargli che comunque gli animali hanno diritto, sì, a stare in condominio, perché con la riforma del 2012 hanno introdotto che gli animali hanno tutti i diritti di poter vivere in condominio, però quando sono nelle parti comuni condominiali devono essere sotto stretta custodia di chi è il proprietario. Quindi museruola, guinzaglio e soprattutto anche il comportamento dell'animale deve essere di una certa particolarità, in ascensore, sulle scale e anche nei giardini condominiali. In questo caso l'amministratore deve interfacciarsi con il proprietario e ricordargli che comunque ci sono altri spazi, al di fuori probabilmente del condominio, dove l'animale ha diritto di fare quello che fa invece nel giardino condominiale. Questo è quello che può fare. Qualora questo invito dovesse essere in evaso o comunque non sortire alcun effetto, l'amministratore deve interfacciarsi con la maggioranza dei condomini e decidere eventualmente, se ci sono i presupposti, un'eventuale vertenza legale, per poter tutelare questi diritti perché il giardino condominiale non è predisposto a questo utilizzo. E quindi in quel caso lì bisogna comunque arrivare a una conclusione? Sì, perché se no, anche perché se tutti avessero gli animali e facessero tutti nel giardino condominiale quello che vogliono, diventa un altro problema. Ma andiamo incontro a un altro problema. Va bene, abbiamo concluso il nostro spazio. Come sempre ringrazio molto Fabrizio Visca, amministratore di condominio, che ci risolve sempre tanti problemi, tante questioni, che naturalmente a volte sono anche molto complicate a livello condominiale. Tra poco parleremo di pensioni. Grazie Fabrizio. Grazie a voi. E quindi a lunedì prossimo. Arrivederci. Eccoci nel nostro secondo argomento di Metropolis di oggi, del lunedì. E quindi, come sapete, trattiamo di pensioni. Quindi chi ha dei dubbi a livello pensionistico ci può chiamare. Il nostro numero è 024807 3451. Ed è qui con noi Remo Guerini, direttore del patronato CISL Inas della Lombardia. Buonasera Remo. Buonasera. Dunque, io direi di partire. Voi sapete, a livello governativo si sta per introdurre questa famosa quota 100 che diventa... Loro parlano di superamento della legge Fornero. Adesso sembra che sia più un affiancamento della legge Fornero. è in discussione proprio la legge di bilancio in queste ore, perché il Consiglio dei Ministri è riunito. Quindi vedremo naturalmente che cosa salterà fuori. Però dalle prime indiscrezioni la quota 100 dovrebbe essere l'insieme dell'età anagrafica e degli anni contributivi. Si parla di 62 anni e 38 di contributi. Anche se oggi pomeriggio qualcuno vociferava di 64 anni come età minima. Va bene, questo non lo sappiamo ancora. Vedremo come andrà a finire. E si ipotizza anche per chi usufruirà di quota 100 di un assegno di entità più bassa rispetto alla pensione con la legge Fornero. In quota 100 si calcola che siano 380 mila i lavoratori coinvolti, ovviamente per il prossimo anno. Stiamo parlando del 2019. Molti ci sperano nella quota 100. Per altri invece sembra inutile perché non conviene. Naturalmente ognuno dovrà fare i propri calcoli. ma chi soprattutto li dovrà fare sono i patronati come quello CIS-INAS che dovranno poi fare i conti e consigliare i lavoratori che vanno in pensione che cosa fare. Ora, in base a quello che sappiamo fino adesso è difficilissimo dare delle sentenze perché naturalmente, ripeto, la legge non è stata, il testo non è ancora conosciuto, quindi sono voci che corrono. Comunque, da quello che si sa fino adesso, Guerini... Sì, diciamo che iniziano a delinearsi quelli che sono i parametri di quella che è la riforma del nostro sistema previdenziale che partirà dall'anno prossimo. Diciamo che sicuramente c'è il varo di questa famosa quota 100. Chiaramente il testo di legge nessuno ancora l'ha letto, lo dovremo leggere, bisognerà aspettare le circolari, i decletti attuativi, però qualche piccola valutazione possiamo già iniziare a farla, l'accennava lei prima. Quindi questa famosa quota 100 che cos'è la combinazione fra età e contributi, ne abbiamo parlato più volte, il problema, il rebus, è l'asticella dove metterla con minimo di contributi e minimo di età. Anch'io ho letto varie fonti dove si parlava che il minimo dei contributi erano 38 anni e il minimo dell'età 62, quindi la somma 38 più 62 diventa 100. È chiaro che se uno ha 38 anni e 63 anni di contributi va benissimo, insomma quindi l'asticella è 38 anni di contributi e 62, poi vedremo come uscirà. La quota 100 però sembra non essere semplicemente la combinazione fra età e contributi, perché perché vengono fatti dei ragionamenti proprio per disegnarla nel modo più preciso possibile. Accennava a un sistema di calcolo diverso, anch'io ho letto una cosa del genere, io ho letto anche alcuni paletti rispetto al cumulo del reddito di lavoro fra chi va in pensione con la quota 100 e poi continua a lavorare. Oggi siamo in un contesto in cui il pensionato che va in pensione e decide di lavorare ancora come dipendente oppure come lavoratore autonomo può farlo liberamente senza nessun tipo di problema, l'unica condizione è fare il 730 al modello unico per conguagliare le tasse. Da quello che ho letto sembrerebbe che la quota 100, chi va in pensione con questa formula, sia limitato e non possa più lavorare o comunque abbia delle trattenute se continua a lavorare successivamente la pensione. Perché questo ragionamento? Perché la quota 100, allo stato dell'arte, da quello che conosciamo, permette di andare in pensione diversi anni prima rispetto al pensionamento ordinario. Se voi pensate il minimo 62 anni di età al paletto che abbiamo letto sulla quota 100, la pensione di vecchiaia oggi si consegue a 67 anni. Sono 5 anni prima, diciamo. 5 anni di anticipo, quindi il ragionamento è ok, io ti permetto di andare in pensione in modo agevolato, però tu non puoi poi riprendere a lavorare. Questo per farlo allo stato dell'arte, da quello che conosciamo, permette di andare in pensione diversi anni prima rispetto al pensionamento ordinario. Se voi pensate il minimo 62 anni di età al paletto che abbiamo letto sulla quota 100, la pensione di vecchiaia oggi si consegue a 67 anni. Sono 5 anni prima, diciamo. 5 anni di anticipo, quindi il ragionamento è ok, io ti permetto di andare in pensione in modo agevolato, però tu non puoi poi riprendere a lavorare. Questo per favorire il turnover e quindi l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Altri aspetti che vanno a delineare quello che sarà la quota 100, ma poi comunque dovremo leggere il testo di legge, insomma qui bisogna farsi assistere veramente dal patronato della CISL perché poi ci sono dei paletti che una volta esercitato il diritto sono quelli lì, non è che si può tornare indietro. Un'altra cosa che si leggeva era il diritto di cumulo, oggi sappiamo perfettamente che di cumulo dei contributi, quindi il discorso è oggi sappiamo perfettamente che il lavoratore che vuole andare in pensione può totalizzare, cumulare, computare i contributi per unire le varie gestioni previdenziali che si hanno in giro, ipotesi del lavoratore dipendente, la gestione separata, il lavoro autonomo, le casse professionali. Per andare a limitare quello che è la quota 100, proprio per stare anche all'interno di vari ragionamenti di spesa, sembra ci sia anche la possibilità di non sommare così facilmente tutti i contributi che si hanno in giro. Un altro aspetto che leggevamo rispetto alla quota 100 è la reintroduzione delle finestre, questo è un meccanismo che la Fornero aveva abrogato, la legge 214 del 2011 ha introdotto la pensione anticipata, ha cambiato leggermente la pensione di vecchiaia, però una cosa l'ha fatta, ha abrogato quello che era il meccanismo delle finestre mobile che spostavano in avanti il momento in cui si iniziava a percepire la pensione rispetto a quando si maturava il diritto. Sembra che, uso sempre il condizionale perché dobbiamo comunque andare a leggere il testo, siamo agli sgoccioli, ma il testo qua non ce l'ha ancora nessuno, il discorso è che la quota 100, seppur introdotta con la legge di bilancio del 2019, non potrà essere utilizzata già dal 1 gennaio, ma reintroducendo il meccanismo delle finestre, pur maturando il diritto alla quota 100 nel primo trimestre dell'anno, si potrà iniziare a percepirla un pochino più avanti, proprio per il discorso delle finestre, quindi si reintroduce il ragionamento secondo il quale, maturato il diritto, poi bisogna attendere un lasso di tempo per poter iniziare a beneficiare della pensione in questo caso. Quindi ci sono tanti aspetti che vanno approfonditi, che vanno poi studiati bene, che vanno calcolati, soprattutto quello a cui accennava lei, cioè se la quota 100 permette di andare in pensione prima, ma ci sono comunque delle penalizzazioni, anche se Salvini ha fatto delle dichiarazioni abbastanza forti rispetto a niente penalizzazioni sulla quota 100, però ogni tanto c'è qualche corrente diversa, però anche qui è evidente che il conteggio, il conteggio previsionale va fatto se si ti dà un patronato, insomma ecco. Ecco, dobbiamo dire, forse c'è già una chiamata in linea, allora la prendiamo. Pronto? Buonasera. Pronto? Pronto? Sentiamo se c'è qualcuno in linea? No, aspettiamo magari un attimo che magari richiamerà. Da voci prese nel pomeriggio ci sarebbe la salvaguardia dei requisiti per i precoci, gli usuranti, la prologa dell'appe sociale e opzione donna. Quindi queste sono cose importanti. Abbiamo la telefonata forse. Pronto? Buonasera, prego. È in linea, può fare la sua domanda. Sì, volevo dire, le persone che hanno 33 anni di contributi. Sì. Opzione donna. Qual è la risoluzione? Quindi 33 anni di contributi e che età? C'è 64 anni. 64 anni. Va bene, le rispondiamo allora. Siamo vicini. Allora sì, dai, rispondiamo alla domanda del telespettatore e ci agganciamo anche a tutto quello che si sente, perché giustamente all'interno della legge di bilancio del 2019 c'è ancora la proroga dell'opzione donna. Quindi l'opzione donna, che è la domanda che ci è stata posta, è quella modalità, perché non è obbligatorio andare in pensione con l'opzione donna. È una modalità che viene scelta, che permette alle lavoratrici donne di andare in pensione prima rispetto ai requisiti ordinari, ma cambiando il sistema di calcolo. Quindi cambiando il sistema di calcolo e optando proprio, lo dice il nome della tipologia di pensione, per il sistema di calcolo contributivo. Quindi va fatto sicuramente il doppio calcolo per vedere se è più penalizzante e quanto eventualmente è più basso l'assegno con l'opzione donna. Ecco, lei ha 64 anni. Allora, quindi diciamo che per andare in pensione con l'opzione donna, se dovesse passare così come stiamo leggendo nei quotidiani, insomma che trattano di economia piuttosto che delle varie fonti, l'opzione donna dovrebbe essere prorogata, quindi coloro che le donne che maturano il requisito potranno accedere con l'opzione donna, le donne che maturano il requisito entro il 31 dicembre del 2018 e devono avere 35 anni di contributi perché l'opzione donna è sempre stata vincolata a 35 anni di contributi, quindi se la signora ne ha 33 sono un po' pochi, quindi deve lavorare altri due anni sicuramente. Quindi l'opzione donna prevede 35 anni di contributi e poi 58 anni e 7 mesi di età per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico e 59 anni e 7 mesi per le donne lavoratrici autonome, quindi il requisito è sempre doppio, 35 anni di contributi da una parte esclusa la disoccupazione e la malattia, quindi per l'opzione donna per i 35 anni bisogna avere 35 anni e bisogna togliere tutti i contributi figurativi relativamente al periodo di malattia o di disoccupazione. Devo essere 35 anni veritieri. Sì, 35 anni è esclusa, è il requisito della vecchia pensione di anzianità prima della legge 248. Questa signora ha 64 anni? 64 anni, quindi l'età anagrafica ce l'ha sicuramente, però ha 33 anni, quindi mancano due anni per arrivare all'opzione donna. È evidente che bisognerà capire se il governo andrà a prorogare questo tipo di misura che ricordiamo è stata introdotta in modo sperimentale, un po' come l'APE, no? Cioè anche l'APE è una misura che è stata introdotta un paio d'anni fa in modo sperimentale in cui si misurano i risultati e la spesa. Prendiamo un'altra chiamata. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. È in linea, può fare la sua domanda. No, senta, io volevo questo tipo di informazione. Non so se c'è un tema. Io ho mia moglie, è dell'età di 60 anni, è in pensione. Oggi ne ha 71. Sì. E percepisce una pensione di 220 euro. Sì. Volevo sapere con la legge di bilancio nuova che è stata fatta se potrà fare 180. Ma... Che ha la possibilità di avere qualcosa in più? Che pensione ha la signora? Si ricorda la categoria? Eh, come categoria? Adesso è il momento, non lo so, perché ho visto proprio adesso in televisione queste commissione o no, che è un altro subito. Invalidità, di lavoro? No, no, è di lavoro. Quanti anni ha lavorato? Mia moglie adesso ne ha 71. Di contributi? Ha lavorato, ha lavorato come contributi per nove anni, ne ha pagati sei di volontaria. Perfetto, perfetto. Allora, guardi, cerco di darle una risposta, cerco di darle una risposta sulla base delle informazioni. Grazie della chiamata, le rispondiamo. Allora, diciamo che il tema sollevato dal signore è il trattamento minimo. Diciamo che le pensioni, quando vengono liquidate dall'Inps, vengono liquidate sulla base della... Poi bisogna capire il sistema di calcolo, retributivo, misto, insomma. Ci sono tutta una serie di variabili. Ad ogni modo, se la signora ha 71 anni, sicuramente è andata in pensione con il sistema di calcolo retributivo. Quindi si andava a calcolare non i contributi che sono stati versati, ma le retribuzioni. Sulla base dei contributi, delle retribuzioni della signora è uscita fuori una pensione di 200 euro, così ci raccontava il marito. Per ottenere l'integrazione al trattamento minimo, ossia quell'istituto che permette di arrivare alla soglia minima prevista dalla legge, che sono 500 rotti euro, bisogna però rispettare dei limiti di reddito. Quindi dei limiti di reddito personali e anche del coniuge, nel caso in questione. Bisogna poi andare a vedere quando è stata liquidata, bisogna andare a vedere il sistema di calcolo, bisogna andare a vedere tutta una serie di condizioni, ma il problema della signora non è tanto con la legge di bilancio se c'è la possibilità di arrivare ai 780 euro, che è quella famosa altra misura di cui si parla, il reddito di cittadinanza, che forse andrà ai pensionati che vertono però in situazioni di povertà. Quindi le misure di incremento delle pensioni di cui si parla, poi bisogna vedere il testo della legge di bilancio per capire esattamente cosa ci sarà scritto, è una misura che va ad aiutare tutti quei pensionati che vertono in situazioni di povertà, quindi in gravi crisi economiche. Se la signora non riesce a prendere il trattamento minimo, immagino che abbia dei redditi o personali, oppure personali e con il coniuge, che fanno splafonare quelli che sono i limiti previsti dalla legge oggi. Quindi io direi, anziché aspettare la legge di bilancio, con il 7,30, col modello unico, con la dichiarazione dei redditi, marito e moglie, si va al patronato, si fa dare un occhio e si capisce se si riesce ad integrare. Dopodiché vediamo se la legge di bilancio prevederà qualche misura per i pensionati che prendono delle pensioni particolarmente basse. Esatto. Va bene, tra poco altre telefonate, ci fermiamo alcuni istanti, c'è la fascia pubblicitaria. Eccoci ancora in vostra compagnia, stiamo parlando di pensioni con il nostro esperto, Remo Guerini, direttore del patronato CISL Inas della Lombardia. Dovremmo avere anche una chiamata, no, forse è saltata, aspettiamo la prossima chiamata, stiamo parlando di quota 100, di queste novità che il Consiglio dei Ministri sta per varare con la legge di bilancio e tra le varie cose fino a questo momento diciamo per la pensione anticipata bastavano, si fa per dire, bastavano, ci volevano 43 anni e 3 mesi a partire dal 2019. Ebbene sì. La modifica di quota 100 vorrebbe portare a 41 anni, ma questo entrerà più avanti, non sarà una cosa immediata. Diciamo che ci sono veramente tanti aspetti su cui bisogna fare ordine e per cui è necessario insomma finalmente leggere questa legge di bilancio perché di ingredienti all'interno della legge di bilancio ne sono stati messi tanti. Molti. La quota 41, che è quella a cui accennava, sembra essere sospesa fino al 2020 o comunque per qualche anno, è stata data la precedenza al discorso della quota 100, ne abbiamo parlato prima, e anche alla possibilità di prorogare per un anno il discorso dell'appe sociale. Quindi l'appe sociale che è stata introdotta un paio di anni fa e che permetteva di far traghettare insomma una determinata fascia di lavoratori in condizioni di fragilità alla pensione di vecchiaia, sembrerebbe che insomma trovi la sua applicazione ancora per un anno. Vedremo nella legge di bilancio cosa uscirà. Sentiamo se abbiamo una chiamata. Pronto? No, non ci sono chiamati in questo momento, quindi andiamo a... Sì, altrimenti, beh, lo diceva prima, dal 1 gennaio 2019 avremo insomma l'incremento, l'incremento di tutti i requisiti previdenziali per andare in pensione legati appunto all'adeguamento con la speranza di vita. quindi una cosa fino ad oggi poi, ripeto, leggeremo sempre la legge di bilancio, una cosa è certa che la speranza di vita ci accompagna anche in tutte quelle che sono le... Pronto? ...l'intenzione. C'è una telefonata? C'è una telefonata, allora la prendiamo. Pronto? Sì, buonasera, la sentiamo, prego. Buonasera, posso fare la domanda? Certo, puoi fare la domanda. Ascolta, io sono un dipendente pubblico, compisco 63 anni al 24 dicembre. Ho 38 anni di servizio e 6 mesi più il servizio militare. Volevo sapere se posso accedere a questa nuova legge pensionistica e se va in porto. Diceva 63 anni di età e? 38 di contributi più uno di militare diventano 39. E vabbè, diventano 39. Diciamo che dobbiamo leggere come uscirà nella legge di bilancio. A quello che abbiamo insomma oggi come informazioni dovrebbe rientrare. È evidente che va fatto comunque il conteggio, va fatta la verifica rispetto a quelli che sono i requisiti, a quelli che sono i parametri e a quelle che eventualmente potrebbero essere le condizioni che la quota 100 va a introdurre a differenza del pensionamento ordinario o di vecchiaia piuttosto che anticipato. Quindi, rispetto a quello che stiamo leggendo e stiamo chiacchierando stasera, diciamo che il requisito nel suo caso c'è. Quindi, il nostro telespettatore è tra quei 380 mila persone che potrebbero usufruire della quota 100. Il servizio militare l'ha già inserito nella posizione assicurativa dell'Inps oppure no? No. Forse non è più in linea. Forse non è più in linea. Però lui ha parlato anche del militare. Quindi il militare se non è stato insieme in militare ricordiamolo a tutti così come la maternità per le donne è un periodo per cui c'è la copertura figurativa. Quindi va accreditato è un accredito che viene fatto a domanda sia il militare che la maternità e bisogna avere il foglio matricolare. Quindi insomma se il nostro telespettatore non ha ancora inserito non ha ancora provveduto all'inserimento del periodo che sono un anno di contributi ed è un peccato buttarli via nella propria posizione assicurativa col foglio di congedo piuttosto che il foglio matricolare al patronato CISL più vicino le accreditano e le aumentano i contributi di un anno. Ecco adesso immagino che in queste situazioni poi inizieranno i calcoli per capire quale sarà l'assegno pensionista. Allora diciamo che sicuramente bisogna fare il conteggio quindi se io vado in pensione con 38 anni di contributi è evidente che fatto salvo il mantenimento dello stesso sistema di calcolo quindi io ho il sistema di calcolo misto oggi parliamo di misto da quando c'era Fornero abbiamo tutto il pro quota contributivo dal 2012 in avanti quindi oggi si parla di sistema misto è evidente che e così almeno le cose banali ce le togliamo direttamente come dubbio è evidente che se io vado in pensione con 38 anni di contributi la pensione sarà leggermente più bassa rispetto ad andare con 43 che è il requisito che servirà dal 2019 ma proprio perché ci sono meno contributi ci sarà meno montante contributivo ci saranno meno retribuzioni quindi sicuramente se io vado in pensione con meno contributi meno anni di contributi poi anche a parità chiaramente di stipendio di retribuzione di contribuzione cioè quindi è evidente che se uno ha 38 anni di contributi ma è un dirigente prenderà una pensione più alta rispetto a un altro soggetto che ne ha 43 e fa l'impiegato però a parità di retribuzioni insomma andare in pensione prima comporta un calcolo dell'assegno leggermente più basso bisognerà capire se il sistema di calcolo viene mantenuto fermo oppure anche il sistema di calcolo prevede delle penalizzazioni si leggeva anche di questo beh naturalmente molti adesso faranno i loro conti almeno a chi si trova in questa possibilità perché da un lato viene data la possibilità di andare in pensione un po' prima dall'altro ci vai con un assegno un po' inferiore devi farti due conti se preferisci una cosa o l'altra prendiamo la chiamata pronto buonasera si pronto buonasera prego pronto si sono Fausto da Bergamo prego signor Fausto vogliamo chiedere una cosa all'esperto di pensione io sono un lavoratore precoce c'ho 34 anni di contributi 6 anni di contributi effettivamente versati e 6 anni fra mobilità casa integrazione e compagnia bella sono stato autorizzato a pagare i contributi volontari per l'anno e mezzo compreso le aspettative di vita che mi mancano questo governo ha intenzione di cambiare le cose per i precoci o è giusto il ragionamento grazie buonasera quanti anni ha i lavoratori precoci comunque l'età non è fondamentale diciamo che i lavoratori precoci dal 2019 quindi dall'anno prossimo per andare in pensione devono avere 41 anni e 5 mesi di contributi quindi fondamentalmente anche per i lavoratori precoci si applica quello che è l'aumento legato all'incremento della speranza di vita quindi l'obiettivo per i precoci l'anno prossimo è 41 anni e 5 mesi ad oggi io non ho letto nessun tipo di abolizione abrogazione e sospensione dei requisiti agevolati per i lavoratori precoci c'era il discorso dell'ape sociale sull'ape sociale ma è un discorso che a lei non interessa si faccia assistere però dal patronato della CISL per questo tipo di conteggio e di valutazione vediamo la legge di bilancio che cosa prevederà speriamo di no incrociamo le dita e quindi lei con i versamenti volontari riesce ad arrivare a quello che è il suo requisito per andare in pensione però mi raccomando assistito da un patronato ecco lui diceva di avere 34 anni di contributi più 6 tra casso integrazione va bene cioè nel senso non è quello il problema io non sento l'obiettivo è 41 anni e 5 mesi quindi probabilmente gli manca qualcosa ha fatto la domanda di autorizzazione i versamenti volontari proprio per arrivare a quel tipo di obiettivo col patronato della CISL Bergamo che sono bravissimi si fa fare il calcolo proprio corretto verificate che nella legge di bilancio non ci sia nessun tipo di sorpresa rispetto a questo tipo di aspetto e poi diciamo che fino ad oggi tutti coloro che erano autorizzati i versamenti volontari sono stati salvaguardati da quelle che erano abbiamo avuto otto salvaguardie degli esodati dalla Fornero in avanti proprio dirette a tenere fermi i requisiti di chi era autorizzato fra le altre categorie anche di chi era autorizzato i versamenti volontari prima dell'introduzione della legge Fornero fino ad oggi quindi insomma per quello che può valere fino ad oggi insomma il prosecutore volontario è sempre stato tenuto da conto ecco allora forse abbiamo una chiamata sì c'è una chiamata sono io prego signora ci può fare la sua domanda sì vorrei chiedere una cosa perché io ho 81 anni quasi ho versato 42 anni di contributi però me ne pagano 32 perché dal 52 a 62 non mi pagano i contributi e vorrei chiedere perché e quindi vorrei sapere la motivazione i contributi ha versato in quel periodo signora ho versato prima i contributi di agricoltura poi ho versato i contributi dell'azienda mamma mia mi aiuti l'azienda industria poi quelle di portineria e poi quelle del commercio signora allora diciamo che detta così è impossibile dare una risposta le diamo una risposta grazie sì diciamo che detto in questo modo è un po' problematico dare una risposta quindi bisogna capire esattamente che tipi di contributi che tipologia di contributo lei sta rivendicando come non pagato potrebbe anche essere che le diverse assicurazioni insomma che hanno istituito l'obbligo del pagamento dei contributi come agricolo come coltivatore diretto cioè sono nate magari dopo sentivo che la signora aveva un'età adesso era abbastanza non ricordo 81 anni quasi 81 anni diciamo che potrebbe anche essere che le assicurazioni previdenziali che hanno istituito l'obbligo del versamento per determinate tipologie che lei oggi non trova nel suo calcolo di pensione magari sono state istituite come obbligatorie dopo però detto questo bisogna verificare un po' i documenti e capire esattamente di che assicurazione si parla di che tipo di contributi si parla e in che anni sono collocati detta così è impossibile dare una risposta è perché la signora dice 42 anni però ce ne sono 10 che ballano certo perché le dice i primi quindi bisogna capire o non sono stati versati i contributi e bisogna capire perché non sono stati versati i contributi insomma ecco prendiamo magari l'ultima chiamata perché siamo in conclusione pronto buonasera pronto sono io prego prego può fare la sua domanda buonasera sono Massimo chiamo da Milano compio 62 anni al 3 di luglio prossimo e già adesso ne ho 39 e mezzo di contributi proprio domani devo andare alla CISL a portare il congedo militare da inserire anche se ho fatto solo tre mesi mi hanno detto di portarlo perché sono tre mesi in più da inserire le volevo chiedere quanto tempo prima del 3 di luglio devo contattare la CISL per prendere l'appuntamento grazie dove abita dove abita abito a Milano via del Turchino vado alla CISL di via Benedetto Marcello di solito perché mi trovo bene lì il patronato Inas che spottano il nostro Remo Guerini a Milano le conosce tutte prenda la penna così le dico anche cosa deve chiedere allora il consiglio che le hanno dato è perfetto perché perché fondamentalmente il servizio militare che le aveva a portare il congedo anche se ha fatto tre mesi va benissimo sono tutti i contributi che lei ha in più e che le serviranno per il suo conteggio quindi il consiglio indipendentemente dal fatto che vada in pensione con la quota 100 con la pensione di anzianità con la pensione anticipata con la vecchiaia con la quota 101 è un consiglio perfetto quindi questo lei lo deve fare e fa benissimo a farlo qualche mese prima rispetto a gennaio che ci sarà un casino per questa quota 100 mi passi il termine che troverà tutti gli sportelli occupati quindi in questo momento è perfetto lei si va a inserire i suoi contributi se ha la penna lei chieda al collega della CISL di fare l'eco-cert quindi di fare l'eco-cert che è un estratto conto certificativo che permetterà poi quando dovrà prendere la sua decisione di andare in pensione di avere già il resoconto corretto al collega della CISL dove va domani dica pure che la mandaremo che così le mettono qualche contributo in più no scherzo ovviamente non è vero comunque detto ciò prenoti già non so se è già possibile prenotare l'appuntamento per gennaio però tenete conto che ai nostri sportelli c'è veramente tanta richiesta per questa quota 100 pertanto se volete avere delle consulenze precise e poter accedere insomma il prima possibile a questo tipo di istituto diciamo che sicuramente non potrà mai partire prima di gennaio o febbraio perché la decorrenza sarà a gennaio ora che arriveranno le circolari i decreti insomma qualche mese ci vorrà quindi è impossibile che il primo di gennaio qualcuno possa esercitare una domanda di pensione in quota 100 è abbastanza improbabile già si parla di marzo già si parla di aprile però diciamo che lei ha dice lei faccia la domanda di certificazione dei contributi di ecocert e di inserimento del militare dopodiché all'inizio di dicembre prenota già un appuntamento per gli inizi di gennaio perché intanto un mesettino riesce a prendere l'appuntamento dopo la Befana si vede i suoi conteggi vediamo con il testo di legge se effettivamente servono 38 anni di contributi o 62 anni di età e il signore ci sarebbe e ci sarà le condizioni attuali lui c'è e poi uno mette in scaletta mette in agenda tutte le operazioni se vuole un consiglio io prenderei l'appuntamento per metà gennaio perché permette ai colleghi di iniziare a leggere quelle che sono le circolari che inevitabilmente usciranno dopo la Befana non è che il primo dell'anno se qualcuno scriverà la circolazione quindi non ha senso correre il 2 di gennaio per la quota 100 però dato che ha fatto un bel ragionamento rispetto a con quanto tempo prima devo prenotare io a dicembre manderei una mail o farei magari un salto lì allo sportello per prenotare l'appuntamento verso metà metà gennaio grazie Remo siamo giunti in conclusione grazie a voi e come sempre ci vedremo poi noi parliamo sempre di pensioni ogni lunedì quindi seguiteci chi deve fare delle domande le può fare ringrazio Remo Guerini direttore del patronato CISL Inas della Lombardia vi ricordo tra poco il telegiornale poi sarà il momento dello sport e questa sera a linea d'ombra con il collega Jacopo Casoni i temi di stretta attualità politica è tutto buona continuazione buona serata grazie a tutti